bella per tutti voi ragazzi benvenuti in questo nuovo video come avete visto dalla copertina del video dal titolo oppure non so se l'avete ignorato in questo video andiamo a montare sette accessori per le vostre moto per la mia moto principalmente per motard ma molte modifiche sono in generale per tutte 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 le moto a meno di 10 euro l'uno ogni accessorio costa molto meno di 10 euro l'uno alcuni sotto i 5 euro alcuni 1 euro altri quasi 10 euro vedremo assieme cosa saranno siete curiosi andiamo al video benvenuti o bentornati in questo nuovo episodio dell'useberg project io sono nec casumo e come vi ho già anticipato andremo a vedere set accessori per le vostre moto a meno di 10 euro l'uno quindi delle modifiche che tutti voi potete fare tranquillamente senza spendere troppo come vi avevo annunciato da qualche episodio precedente e come credo anche voi abbiate visto nell'episodio precedente di quando utilizzato la moto per fare il trick più epico della storia le modifiche erano già su questo video però lo sto registrando prima di fare quel trick tutti questi accessori li ho comprati sul sito aliexpress li ho pagati io non me l'hanno sponsorizzati quindi vi faccio vedere uno a uno in particolare e faccio vedere per ognuno anche il suo prezzo vi metto una foto durante il video quindi bando alle ciance andiamo a vedere tutti questi accessori come avete notato il pacco non è grandissimo ma comunque ci sono molte cose qua dentro e devo farvi una premessa cioè non tutto è arrivato perché da lì express a volte perdono pacchi non lo so ragazzi quest'ultimo doveva arrivare qua qualche settimana fa solo che non è ancora arrivato dunque questo prodotto che non è altro che questo cioè i peg per la bmx questi qui servono per impennare per far stunt riding in modi particolari dunque cosa ho fatto col mio ingegno al posto di andarli a comprare da qualche parte avevo delle gambe di uno scabello un bel legno resistente pieno e col trapano colonna mi sono messo perforare queste gambe vabbè prima le ho tagliate a misura e sono venute fuori in questa maniera qua le ho anche verniciate oltretutto sono carini eh sono fatti bene questi sono uno degli accessori a meno di 10 euro che potete voi prendere per la vostra moto da stunt riding tra poco andiamo a montarli ok adesso passiamo al prossimo ho comprato la pellicola da mettere sul faro più che blu e azzurrina non troppo scura se no già non si vede niente ad andare in giro così peggiora e anche questo l'ho pagato non mi ricordo sui 5 euro e dopo andiamo a montare sul faro next qui dentro se non sbaglio questo prodotto l'ho pagato 9 euro spedito o 7 euro spedito abbiamo dei tamponi per il manubrio in ergal blu carini ora vi faccio vedere bene come sono fatti poi 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 ho preso altro ergal questi sono per regolare le forcelle il prezzo è sempre qua non me lo ricordo precisamente sono quei cosettini che girando indurisci o smolli le forcelle i miei sono un bel po rovinati quindi ho deciso anche di cambiarli sempre parlando di ergal a tipo 3 euro ho preso sti coprivite credo siano proprio dei coprivite e li piazzerò quella dove c'è spazio dove si montano non lo so non scopriremo assieme il nostro penultimo prodotto è questo coso questa piramide al contrario un cono gelato non lo so un albero di natale come lo volete vedere non è altro che un accessorio per lavare la moto credo costi un euro 50 spedito non so magari l'ho pagato anche meno sempre qui la foto lo piazzi dentro silenziatore così quando lavate la moto non vi entra l'acqua ultimo accessorio ma non meno importante è una cosa che ho pensato per tanto tempo che mi serviva vediamo appunto se riesco a fare il lavoro che voglio fare questo non è altro che scotch biadesivo con una parte dietro ruvida sembra tipo carta vetrata ho intenzione di utilizzarlo per fare grip sul paratelaio e in teoria dovrebbe aiutarmi ad avere più grip sulla moto dunque adesso andiamo a montare uno per uno tutti i prodotti come avete notato sono tornati gli occhiali gialli sempre presenti comunque iniziamo a montare questi tamponi per il manubrio allora sicuramente qua sarà da tagliare una parte di manopola utilizzo il seghetto e vado giù direttamente così questo è il kit che dovrete usare innanzitutto prendete la vite mettetela dentro qui fatela passare qua e dopo staccate dentro l'ultimo pezzetto che in teoria andrà avvitando questa vite quando dentro il manubrio a stringersi e allargare il gommino in modo tale da rimanere saldo dentro questo è il risultato finale viene proprio in questa maniera già che siamo qua a smalettare sul manubrio mettiamogli un po di ergal comunque in verità non è proprio ergal è un po più plasticoso questo materiale però è molto carino ad esempio qua abbiamo questa misura che credo sia la stessa di questo no è perfetto ora mi diverto un po montarli su tutta la moto tipo uno qua uno qua così via e non appena ho finito ci vediamo con la prossima cosa prossimo step smontiamo i due pirulini qua ho dovuto smontare il manubrio perché giustamente non si riusciva senza farlo svito queste tenendo le forcelle alzate mi raccomando da terra cioè la ruota alzata da terra e vado a rimpiazzarli con quelli nuovi che sono questi due qua dovete tenere fermo questo e far girare solo la brugola perché sono questi due girano assieme eccolo qua e via col prossimo passiamo alla parte ignorante cioè a fare i peg in legno anche se prima già che ci siamo qua vi faccio vedere con questo coso va in questo punto e poi la vostra moto va lavata qui abbiamo i nostri due peg in legno particolari veramente strani e adesso ci mettiamo all'opera e tag abbiamo il nostro primo peg allora ragazzi adesso vado a montare in casa la pellicola se riesco vi faccio qualche clip e faccio vedere come viene poi il faro questa pellicola volevo utilizzarla anche per la luce del faro posteriore finiamo i lavori di oggi col nastro adesivo che fa grip questo qui è uno dei materiali che trovate anche in giro non lo so nelle scuole negli ospedali dove ci sono le scale e mi è venuto in mente appunto di usarlo come materiale per far grip sul telaio mettendolo sopra il paratelaio mi ritaglio delle strisce della misura adatta e vediamo come viene la moto a lavoro completato vi faccio vedere poi la moto tutta nel dettaglio con tutte le modifiche che ho fatto finora ho ritagliato questa forma per adesso la vado applicare in questo modo allora allora attaccare l'adesivo si attacca bene fare grip vi assicuro che lo fa è anche veramente tanto molto utile soprattutto io che faccio stunt riding a mettere i piedi qua almeno non ti scivolano o anche per chi fa motocross magari da un aiuto anche questo adesso non perdiamoci via faccio anche l'altro lato e dopo vi faccio appunto vedere la moto nel complesso come è venuta niente ci siamo queste sono le ultime modifiche che ho fatto la moto tra le viti blu che ho piazzato un po ovunque mi piacciono veramente molto 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 i tamponi in ergal sul manubrio fanno anche loro una bella scena non appunto abbiamo i tamponi che serviranno per impennare la cosa del grip che ci aiuterà sempre nel nostro stunt riding il cosino per lavar la moto e niente questi erano 10 accessori che tutti voi potete comprare a meno di 10 euro l'uno vi ricordo che a inizio video ho lasciato ogni foto col nome del prodotto quindi andateli pure a cercare tranquillamente lascio il link di aliexpress qui in descrizione e noi ragazzi ci vediamo settimana prossima sempre a quest'ora 13 in punto di ogni lunedì appuntamento fisso con nch non esitate a seguirmi anche su instagram li pubblico post ogni settimana e storie praticamente ogni giorno dunque siamo sempre in contatto ci possiamo sentire magari se avete voglia anche di scrivermi può essere che alcuni di voi risponderò soprattutto quelli che comprano il mio merchandising perché sono i fan numero uno noi ci vediamo al prossimo video ciao